Lupi contro Leoni. L'Avellino dopo 25 lunghi anni affronterà nuovamente il Potenza, una gara che manca dalla stagione 93-94. L'ultima volta furono i bianco-verdi ad imporsi con il punteggio di 2-0 grazie ad una doppietta del bomber Libro il 23 gennaio. Due le curiosità legate a quel match. In panchina per i Lupi, Salvatore Di Somma, attuale direttore sportivo degli Irpini, Libro era stato acquistato proprio quell'estate dai Rosso Blu, con cui mese a segno 12 gol l'anno prima. Il bilancio in Irpinia nei precedenti è nettamente a favore dei bianco-verdi con i Lupi che hanno ottenuto 6 vittorie, la più larga per 7-1 nel torneo 46-47, 4 pareggi e un solo stop nel torneo 62-63. Il grande ex del match è di sicuro Ezio Capuano, l'allenatore dell'Avellino ha salvato il Potenza sul campo nel torneo 2009-2010, un'impresa epica se si considera la retrocessione d'ufficio dei Lucani. Ma non è l'unico ex dell'incontro tra le fila degli ospiti, il centrocampista Francesco Dettori, il difensore Antonino Giosa, Potentino Doc, che con l'Avellino ha vinto il campionato 2012-2013 dalla CLB, e Manuel Ricci, meteore in Irpinia, è grande protagonista tra le fila dei Leoni. Ma c'è anche un'altra curiosità, quella legata all'amministratore delegato del Potenza, Daniele Flammia. Irpino Doc è braccio destro del vulcanico presidente Salvatore Caiata.